Ed eccoci qua ragazzi, bentornati su JSTAR VICTORYS Bene, nella scorsa puntata abbiamo iniziato il torneo J Dove abbiamo sconfitto la squadra di Kenny il guerriero E adesso ci apprestiamo ad affrontare la prossima battaglia Togur Le semifinali Allora io direi Di mettere Rufy Mando Rukia la sostituisco con Eccolo qua Io sono curioso di provare Kuroko come supporto Proviamoli Andiamo Uh, quiz Starman Boh, non la sapevo Proprio di principio Eccolo Oh Le sto prendendo di non so quanto però eh Eh ma perché comunque mentre attacco uno C'è l'altro che Ma perché adesso ho cambiato bersaglio Ecco Toguro sta prendendo botte Fa un bagno Eh noi siamo pure in Abbiamo anche il supporto ma non riusciamo a fargli un tubo a sti due No Io voglio colpire l'altro E che diamine Ma mi cambia la visuale così Voglio mirare l'uno e non mi fa E non me lo mira E che diamine Botte Ok 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 Hai Hai è arrivato perchè la mandi di la ehi fai qualcosa però che diamine ma si è curato? eh vabbè hanno due vittorie loro eh devo fare tutto io fine oh ce l'abbiamo fatta mamma mia che fatica poi con il supporto Kuroko che cavolo non colpiva gli altri e quindi molto bene la squadra Rufy vince cioè olle ragazzi e andiamo in finale squadra Torico questo ragazzi si preannuncia uno scontro bello tosto allora aspetta che mi scelgo un supporto decisamente migliore lei che almeno cura ok la fa ehi se viene una mano perché mano povero Goku e che non si è allungato e prendi questa boom e prendi questa ok ok ne manca soltanto una di vittoria adesso dov'è no ma lei cura indistintamente no eh che dei due che c'ha meno vita no e tra gli altri c'è i gam gam no 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 sono stato colpito da non so che cosa che cavolo caspita mi ha preso ma non curare loro stupido madonna quanto è stupida oh porca miseria no olè abbiamo vinto meno male appena in tempo uff e abbiamo vinto il torneo e se questa era la finale mamma ragazzi abbiamo un vincitore la squadra rufi ma ci sarà una cazzina qualcosa no ma ci prendiamo tutti i complimenti tutte le belle cose oh cavolo eh ma dobbiamo salvare il mondo spettri oscuri oh mamma mia cioè tutta sta cosa era servita per trovare la squadra più forte per poi fare tutta andare a massacrare le forze del male oh si aggregano tutti ottimo oh 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 che figata Yusuke Gon Naruto alee nuovo alleato anche Killua oh per tenere al sicuro le tre chiavi le ho nascoste e muo sto tempo a dietro guardate al nord oppure a est insomma fate del vostro meglio ok ora possiamo tornarcene qui il teletrasporto se riesco a prendere il teletrasporto magari oh ok ragazzi io direi che per quanto riguarda il torneo possiamo definirlo concluso e direi che sia anche abbastanza avervi fatto vedere la semifinale e la finale e vi invito come sempre a lasciare un bel like un commento e a seguirmi sulla mia pagina facebook del canale e alla prossima